Sbarcata a Catania lo scorso giugno con la speranza di una vita migliore, una giovane migrante nigeriana è stata costretta a prostituirsi. Ad organizzarle il viaggio da clandestina in Sicilia, è stata una connazionale di 27 anni che è stata arrestata dalla polizia di Catania con l'accusa di tratta di esseri umani. La minorenne nel 2015 era stata agganciata in Nigeria con la promessa di un lavoro in Europa, in cambio di un pagamento di 35.000 euro, ed era stata circuita con ridi voodoo. Le indagini, coordinate dalla procura distrettuale di Catania, hanno permesso di rintracciare la sfruttatrice in provincia di Venezia, dove è stata arrestata e rinchiusa in carcere.